Intervento dei Vigili del Fuoco di Ivrea, con squadre e botte, dei volontari di Rivarolo Canavese, di Montanaro e dell'autoscara di Aosta, questa notte intorno a mezzanotte in via Don Vercelli a Pavone Canavese. L'allarme scattato per alcune fiamme fuoriuscite dalla canna fumaria di un'abitazione. I Vigili del Fuoco hanno spento il principio di incendio prima che le fiamme intaccassero il tetto e hanno proceduto alla messa in sicurezza controllando che il sottotetto non fosse compromesso. Grazie a tutti.